Allora, a un certo punto io al maschio Angioino, premio Berzot, 24 marzo, quindi ancora distanti dalle tre defeat che si sono verificate con Milan, io dico Spalletti resterà con noi. Lui non smentisce, non dice nulla. Per dimostrargli che anche se la squadra era in calo, io ero assolutamente con lui e non lo avrei biasimato per l'uscita dalla Champions. E quindi cosa feci? Gli mandai giuridicamente l'esercizio dell'opzione e allora io gli inviai questa PEC con la quale esercitavo il diritto dell'opzione per la stagione successiva. Mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio, quindi parecchio tempo dopo, all'altro loco, c'eravamo io, Andrea Chiavelli, lui ci comunicasse la sua intenzione di volersi prendere un periodo sabbatico, di voler tornare a fare il contadino e coltivare la sua bellissima terra in Toscana e compagnia bella. Abbiamo nelle settimane successive, anche perché molti di voi hanno detto, ma perché si è mosso così tardi De Laurentiis per cercare l'allenatore? Ragazzi, qui non siamo ad un gioco di società. Non è un calcio finto, questo è un calcio vero. Allora, quando tu vai a cercare qualcuno, tu hai anche quel qualcuno che ti può rispondere, sì mi interessa? No, non mi interessa. Allora, io innanzitutto non mi davo per vinto e volevo trovare un modo, una modalità di trattenere, non solo giuridicamente, che era un mio diritto ormai esercitato, ma anche amichevolmente. E quindi tra avvocati, questo, quell'altro, su e giù, a me venne anche un dubbio che Gravina già lo avesse contattato, venne venuto questo dubbio, però poi sai, i dubbi sono dubbi, quando non c'hai le prove, i dubbi lasciano il tempo e trova. E allora, io a un certo punto, qual è stato il mio errore? Ecco perché io ho detto, accuso me stesso di tutto quello che è successo successivamente. Chi avrei detto, io ho esercitato l'opzione, lei o tu rimani?